Avete presente un albero? Certo che ce l'avete presente. Uno qualsiasi. Se penso all'opera d'arte perfetta, a ciò che meglio sintetizza il concetto di opera d'arte, penso ad un albero. Lo vedi e sai che non c'è niente da aggiungere rispetto a ciò che già rappresenta con la sua perfettissima presenza. L'albero è il più grande esempio di presenza nelle cose. Osservo, silento, mentre il mondo gli corre attorno. Ascolta chiunque, molto spesso pare annuisca il richiamo del vento. Insomma, quando mi troverò a dover scegliere come rinascere, sceglierò di rinascere albero. Egoista come un albero. Indifferente, proiettato con i rami verso l'illuminazione e allo stesso tempo così profondamente radicato nelle proprie convinzioni. Si dedica unicamente a se stesso. Egoista di un albero, è un po' come l'artista. Mentre l'albero assorbe l'acqua dalla terra generando foglie e frutti, l'artista si nutre di emozioni restituendo immagini. Dovremmo prendere esempio dall'albero perché è in questo meccanismo così apparentemente egoistico che l'albero produce ossigeno. E l'ossigeno è per tutti. Vuoi fare il bene del mondo? Allora occupati di te stesso. Sia egoista, ma come un albero.